Io sono stra convinta che c'è una serie di misure da attivare per poter riscuotere questi soldi che mancano, ma non assolutamente alle spese dei bambini, perché è un danno psicologico grave. Secondo me hanno fatto una cosa giusta, ha fatto una cosa giusta il sindaco e quindi è da apprezzare. Discriminazione da parte dei genitori che non pagano. Questo è il clima che si respira all'esterno dell'Istituto Don Milani. Ci troviamo nel comune di Montevarchi dopo la vera e propria bufera che è scoppiata dopo la notizia di questi 19 bambini che per due giorni sono stati alimentati con pane e olio perché i genitori erano morosi rispetto alla mensa scolastica. Su questa vicenda fa chiarezza il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiasai. Già oggi, e questo era prevedibile, i genitori di questi 19 sono stati ricontattati, sono stati messi in contatto col servizio sociale. Alcuni di loro hanno deciso di pagare le morosità e poi di uscire dal servizio mensa e di usufruire del pasto che possono portare da casa che il MIUR prevede. Tutti i bambini stamattina avevano il panino e tutti adesso sono in regola. Invece si è voluto sfruttare vecamente e politicamente la vicenda. 200 bambini che mangiano scivolo diverso in un'altra stanza non sono discriminati. Quello non è un problema, non l'ha stabilito la mia amministrazione, l'ha stabilito il MIUR e le norme ASL. Un pasto a menza costa 5,40 euro, ci sono genitori che fanno mangiare i bimbi a casa, ma è possibile solo per ragioni sanitarie. Basta mandare un foglio del pediata dove si dice che è intollerante su alcuni alimenti. Non è per ragioni economiche? No, effettivamente è per ragioni economiche, comunque si fa tramite il pediata.